buonasera intronauti sono giuseppe chiodi autore blogger e coach narrativo il mio blog immersività.it e oggi per il ti consiglio una storia al tcs vi porto la ace atorney trilogy cioè fenix wright ace atorney che cos'è si tratta di un videogioco o meglio di tre videogiochi una trilogia dei primi tre videogiochi della serie fenix wright ace atorney di cosa si tratta praticamente questi videogiochi uscirono parecchi anni fa e poi sono stati rimasterizzati e uniti in una trilogia più volte uscita anch'essa adesso si può trovare dappertutto questa trilogia la trovate si chiama ace atorney trilogy la trovate su steam quindi su computer per giocarci a computer la trovate su la nintendo 3ds la trovate penso anche sulla nintendo switch insomma un po dappertutto e come ho detto si tratta dei tre giochi ace atorney fenix wright ace atorney normale poi fenix wright ace atorney justice for all e fenix wright ace atorney trials and tribulations e si tratta come ho detto dei primi tre titoli della serie perché poi ce ne sono molti altri per chi si appassionasse attraverso questi tre titoli che ovviamente vanno giocati per primi ce ne sono tanti altri c'è spirit of justice anzi c'è apollo justice e poi c'è spirit of justice poi c'è dual destinies non ricordo se ce n'è ancora un altro non so neanche se ho detto in ordine giusto perché in realtà io ho giocato solo ai primi tre mi sto approcciando adesso ai successivi poi ci sta anche il mails edgeworth investigations che sarebbe una specie di spin off basata su un altro personaggio fondamentale diciamo nella 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 serie che sarebbe mails edgeworth e poi anche in realtà il secondo di questa serie di investigations però mai tradotto credo dal giapponese poi c'è anche the great ace atorney chronicles uscito da non molto rispetto a quando sto facendo questo video che è praticamente disponibile un po dappertutto sempre anche questo su computer su nintendo switch eccetera eccetera su quindi steam nintendo switch eccetera e si tratta di un prequel quindi questo può essere giocato quando si vuole però essendo comunque uno degli ultimi penso che sia meglio giocarlo come ultimo insomma perché poi insomma chiaramente è anche meno meno primitivo nelle sue meccaniche quindi poi si rischia di iniziare da quello un po più un po meno antiquato nel gameplay e quindi poi diventa più pesante giocare i primi questo perché comunque i primi sono vecchi ok fenix wright e sattorni il primo il secondo e il terzo sono comunque dei giochi vecchiotti e quindi sono un po antiquati ma nonostante questo reggono benissimo e il motivo è anche il motivo per il quale li porto qui al ti consiglio una storia ed è ovvero tutta ed è praticamente tutto il comparto narrativo dei giochi di cosa si tratta abbiamo praticamente il nostro protagonista che si chiama fenix wright che è un avvocato difensore e l'intero gameplay in pratica l'intera esperienza di gioco così basa sulle cause intentate nei confronti dei nostri come dire delle persone che noi difendiamo in qualità di avvocati difensori ok noi quindi ci assumiamo l'onere di difendere queste persone e i vari diciamo giochi si articolano attraverso una serie di casi c'è il primo caso il secondo caso il terzo caso eccetera ognuno con un nome ovviamente caso il caso delle due sorelle eccetera eccetera così di solito sono tipo 4 5 casi no 5 casi circa mi pare in ogni gioco qualcosa del genere poi variano un po anche perché per esempio nel primo gioco in occasione della remasterizzazione su nintendo ds se non sbaglio è stato aggiunto un caso extra fatto apposta ad hoc per la remaster molto molto bello tra l'altro per niente inferiore agli altri e con anche delle meccaniche un po più nuove che quindi svecchia anche il titolo rispetto poi ai due successivi purtroppo che non hanno questo caso extra quindi in questo caso extra fatto per ds apriamo delle meccaniche touch di manipolazione degli oggetti eccetera che non ci sono purtroppo nei vecchi titoli perché chiaramente erano limitati all'hardware su cui si trovavano e anche per questo dico sempre di iniziare comunque da dalla trilogia come ho fatto io e infatti adesso mi preparo ad approcciare i giochi seguenti che purtroppo alcuni ritengono inferiori alla trilogia che comunque come dicevo è un comparto narrativo pazzesco e questo perché perché in realtà i casi sono delle vere e proprie storie in realtà il gioco è chiaramente assurdo perché noi siamo avvocati difensori ma siamo come degli investigatori perché poi per cercare di proteggere il nostro assistito e di difenderlo come si deve facciamo delle vere e proprie indagini addirittura sul luogo quindi andiamo sul luogo del delitto per esempio dove è successa la cosa parliamo con i testimoni con i presenti cerchiamo prove troviamo prove o addirittura salviamo persone perché poi succedono cose assurde e diventa una specie di gioco investigativo il gioco in realtà è diviso in due meccaniche principali l'intero gioco si svolge nell'aula di tribunale e sul luogo di investigazione quindi attraverso l'investigazione da un lato e il processo dall'altro sono le due meccaniche che formano proprio per proprio per intero la trilogia quindi tutti e tre i giochi si basano su queste meccaniche e basta su questo gameplay e basta investigazione e processi investigazione come ho detto ci si sposta da un luogo all'altro e si esaminano questi luoghi quindi con nel caso della 3ds ci ho giocato su 3ds con il colpennino tu indichi i posti da sulla scena che poi è rappresentata da un'immagine tutto illustrato si si cercano i dettagli un po' come veramente l'assistito e così via capire poi chi è veramente il colpevole che è una cosa che poi si si capisce sempre alla fine cioè alla fine attraverso il processo si cerca di fare emergere la verità come se fosse praticamente appunto un'investigazione e nella diatriba nella dialettica tra il avvocato difensore quello dell'accusa si arriva poi finalmente a capire chi è il vero colpevole che puntualmente non è mai il nostro assistito quasi mai e lo si fa attraverso poi tutta la fase del tribunale di cui parlo tra poco però stavo dicendo nella fase di investigazione noi andiamo in questi posti troviamo le prove tocchiamo lo scenario eccetera e poi parliamo con i testimoni o con personaggi che potrebbero aiutarci nelle indagini e questi personaggi sono sempre personaggi estremamente sopra le righe molto simpatici molto peculiari con un'infinità di linee di dialogo devo dire fenix wright e satorney la trilogia almeno è la serie con la mole di dialoghi maggiori che abbiamo visto in vita mia i dialoghi non finiscono mai quindi per chi apprezza i dialoghi in un gioco comunque in una storia andrà proprio a nozze con i satorney proprio perché i dialoghi sono tutto nel gioco è un continuo dialogare un continuo dialogare quando parliamo con i personaggi mentre investighiamo quindi per sapere dove erano cosa hanno visto cosa hanno fatto se stanno nascondendo qualcosa e molto spesso lo fanno e quindi per per esempio fai votare il sacco dobbiamo presentargli c'è proprio l'opzione presente per presentare a queste persone delle prove così per dire se hanno mentito per esempio noi possiamo sgamarli e loro poi sono praticamente costretti a votare il sacco perché li abbiamo sgamati no presentandovi per esempio il fazzoletto sporco di sangue che loro avevano addosso con le loro impronte digitali che ne so cose del genere e quindi c'è tutto questo questo schema qui e noi così facendo otteniamo nuove conoscenze sul caso otteniamo quindi nuove consapevolezze anche nuove prove che magari stesso quelle persone ci portano o che attraverso le loro parole ci aiutano a cambiare ciò che sappiamo su prove che già già abbiamo o che comunque con le quali entriamo in contatto nel momento in cui facciamo il processo che magari sono portate dall'accusa e questa è tutta una prima fase in realtà nel secondo e nel terzo titolo si aggiunge un'altra meccanica a questa fase che la la meccanica del magatama che ci permette praticamente di ottenere delle conoscenze segrete dei personaggi che sono dietro delle catene praticamente dell'inconscio che questi personaggi non ci vogliono dire noi attraverso questo magatama magico praticamente poi c'è tutta una sottotrama di questi telepati di queste di queste questi occultisti tra virgolette eccetera eccetera comunque possiamo riuscire a scoprire questi segreti rompendo le loro difese però attraverso un test di domande alle quali noi dobbiamo rispondere nel modo giusto portando le giuste prove eccetera eccetera quindi c'è questa sottomeccanica solo nel secondo e nel terzo comunque come dicevo questa è la parte delle investigazioni e la cosa bella del gioco appunto è che non è è ripetitivo perché alla fine il gioco è antiquato e poi sono solo queste due le fasi fase investigazione fase tribunale fase processo che poi sono lunghissime nei primi casi ovviamente sono più breve ma nei casi lunghi nei casi finali per esempio dei giochi queste fasi si dilungano tantissimo cioè noi stiamo per ore in aula di tribunale stiamo per ore a investigare può capitare anche è capitato a me può capitare sicuramente mi capiterà di bloccarsi quindi di ripetere le stesse cose varie volte di non sapere come andare avanti cosa chiedere ai personaggi cosa presentati e cosa cosa non va cosa va e questo purtroppo è il testamento del fatto che il gioco è vecchiotto quindi purtroppo capita di di bloccarsi perché il gioco vuole delle cose molto specifiche che uno non riesce a capire magari finché non sbatte la testa tante tante volte ripetendo anche purtroppo certe sessioni soprattutto in tribunale per fortuna è sempre possibile salvare la partita basta semplicemente su 3ds premere start salvare uscire quindi si può sempre poi ricominciare da lì anche quando si perde in tribunale perché in tribunale si può perdere perché in tribunale si ha una specie di barra della vita in pratica funziona così la fase del tribunale noi siamo a processo ci siamo noi c'è il nostro assistito e poi c'è dall'altra parte l'accusa e ci sono una serie di testimoni che vengono portati o dall'accusa o da noi e il giudice c'è ovviamente il giudice cosa succede che la fase si svolge così il testimone dalla sua deposizione e noi facciamo la cross examination cioè praticamente noi controlliamo la deposizione del del testimone per vedere se ci sono delle contraddizioni e moltissimo della fase del tribunale del processo si basa sul sul fatto di sulla capacità di scovare le contraddizioni delle testimonianze dei testimoni quindi noi abbiamo queste linee di dialogo e possiamo fare objection e obiettare diciamo a delle frasi magari del della deposizione della testimonianza e chiedere delle delucidazioni oppure sottolineare delle contraddizioni cosa che poi screditerà al testimone ci farà ottenere nuove nuove conoscenze sul caso metterà alla luce delle cose sul caso che magari sembravano in un modo solo in un altro quindi lo stesso giudice magari non non si affretterà a dare il giudizio di colpevolezza al nostro imputato no al nostro assistito ma comincerà anche a pendere dalla nostra parte se sottolineiamo le contraddizioni nell'accusa ovviamente nell'impianto dell'accusa e ovviamente però se sbagliamo nel presentare prove quindi presentiamo le prove sbagliate rispondiamo male sottolineiamo delle contraddizioni che non ci sono eccetera il giudice ci punisce e abbiamo una specie di barra della vita in base a questo nel momento in cui la barra si esaurisce il giudice dà immediatamente la la sentenza di colpevolezza al nostro assistito e noi abbiamo perso e dobbiamo ricominciare dall'ultimo salvataggio o dall'inizio della fase di quel caso che è diviso in varie fasi ogni caso è diviso in varie fasi come ho detto spesso sono alternate quindi investigazione processo investigazione processo investigazione che poi i processi magari si interrompono perché sono particolarmente complessi perché c'è bisogno di nuove prove perché non ci sono abbastanza prove quindi si torna sulla scena a investigare quindi questo è il gameplay molto ripetitivo ma allo stesso tempo è abbastanza da non annoiare e il motivo fondamentale non è tanto delle meccaniche che in pratica neanche ci sono più di tanto perché è tutto basato sui dialoghi il punto è è proprio il comparto narrativo e in particolare alcuni elementi ovvero i personaggi i dialoghi stessi e la comicità infatti è molto divertente i sattorni una cosa che devo dire però purtroppo è che c'è solo in inglese si può trovare la versione italiano se non sbaglio era quella per ds però non l'hanno più ripubblicata nel senso tutte le nuove remaster e anche quella per 3ds in realtà l'italiano non c'è questo perché era basato come le vecchie traduzioni su degli errori appunto di traduzione quindi poi sono state rifatte ma quell'italiana penso non sia stata rifatta quindi il gioco va giocato in inglese se si vuole giocarlo bene e non è un inglese facile perché il gioco è ricchissimo variegatissimo di personaggi di situazioni di tutto quindi trovate allo stesso modo un linguaggio molto molto variegato trovate per esempio personaggi che parlano con slang particolari molto diversi tra loro slang del sud degli stati uniti dato che è localizzato in inglese è localizzato anche bene tutto viene adattato quindi trovate personaggi che avrebbero parlato in un dialetto giapponese lo trovate che parlano ovviamente in uno slang americano che può essere del sud degli stati uniti oppure uno slang da gang di che ne so di boston eccetera eccetera quindi il gioco estremamente adattato per questo motivo può essere molto complicato trovate un linguaggio tecnico in inglese di natura giuridica molti vocaboli potreste non capirli per questo motivo se però il caso per esempio concerne un determinato argomento troverete termini tecnici termini che si rifanno a quel campo che chi ovviamente ha una conoscenza di inglese che non è neanche non dico che insomma insomma non credo che basti una conoscenza dell'inglese decente ci vuole proprio una buona conoscenza dell'inglese una conoscenza dell'inglese addirittura ottima secondo me per per capire per comprendere a pieno esattorni proprio perché il linguaggio è così variegato stratificato complesso a volte tecnico anche quando si si fanno battute ci sono tanti riferimenti che per coglierli bisogna veramente masticare bene la lingua quindi c'è questa cosa da dire comunque stavo dicendo i personaggi i dialoghi e i casi stessi cioè l'aspetto narrativo nei casi cioè proprio la trama dei casi ok cosa è successo cosa quali sono le motivazioni che spingono i personaggi a fare determinate cose qual è il mistero qual è l'elemento di mistero qual è l'elemento giallo c'è tanto di giallo anche in questi casi sono quasi tra giallo e il thriller in certi casi addirittura sono proprio dei gialli da insomma da capire bisogna un po sbrogliare la matassa per capire cosa è successo quindi chiama i rompicapi chiama i gialli in particolare chiama anche in certi casi di hardboiled perché ci sono anche questi riferimenti apprezzerà tantissimo il gioco la serie da questo punto di vista del suo comparto narrativo ma quello che invece vale per tutti senza altro anche per chi non è amante di misteri colpi di scena gialli eccetera eccetera che sono gestiti benissimo perché certi casi sono geniali sono veramente ci sono un sacco di colpi di scena continui e anche se sempre assurdi sempre sopra le righe sempre sui generis perché il la serie è proprio all'estremo ok come potete immaginare un videogioco giapponese proprio sopra le righe ciò in cui eccelle veramente a livello oggettivo per tutti sono i dialoghi e i personaggi che per me sono il top sono tra i migliori del del proprio del mondo videoludico della storia dei videogiochi e non è dire una banalità perché ci sono tanti videogiochi con ottimi personaggi e con ottimi dialoghi per me fenix wright è uno dei migliori in assoluto già avevo lodato da questo punto di vista ghost trick e devo dire che fenix wright è addirittura superiore a ghost trick è pazzesco come dialoghi e come personaggi personaggi sono anche ottimamente caratterizzati dalle loro animazioni rifatte apposta per questi remaster stupende le animazioni stupendi loro sprite che danno ancora più carattere appunto ai personaggi stessi che sono ottimamente identificati anche nella loro esteriorità proprio come in ghost trick come dicevo in ghost trick attraverso le animazioni di ghost trick in questo caso attraverso gli sprite attraverso il design il look tutti così unici così assurdi anche sopra le righe e attraverso le loro animazioni che anche sono ottime anche che sono diverse da quelle di ghost trick e attraverso proprio i personaggi nella loro sfaccettature nella loro psicologia nel loro modo di esprimersi di porsi eccetera e non sono così banali il gioco in realtà soprattutto nei casi più complessi presenta una serie di personaggi estremamente originali coinvolgenti e interessanti a tutto tondo cioè personaggi sfumati che non sono semplicemente cattivi non sono semplicemente buoni ma personaggi pieni di di difetti di debolezze di di lacune personaggi davvero a tutto tondo con spesso degli struggimenti interiori non indifferenti quindi dei conflitti interni non indifferenti che ovviamente sono fanno parte sono tutt'uno con il caso quindi con la storia che noi stiamo affrontando e questi personaggi sono alcuni di questi personaggi sono indimenticabili cioè sono personaggi che rimangono che 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 ti rimangono proprio perché come per esempio penso a godò che è diventato uno dei personaggi più amati della serie per per quello che hanno dovuto affrontare per quello che hanno dovuto subire per quello che affrontano quando è il loro turno diciamo così di essere difesi oppure sono coinvolti nei casi no e tu devi difenderli oppure sono coloro che per esempio alcuni dell'accusa alcuni avvocati dell'accusa sono sono fondamentali nella nella trilogia come per esempio maes edgeworth come lo stesso godò come franzisca von karmann sono dei personaggi assurdi ma veramente veramente ben fatti veramente profondi geniali interessanti sfaccettati coinvolgenti pieni di quirk pieni di carattere sono proprio strappieni di carattere sonda da tutto dal loro aspetto estetico alla loro alle loro animazioni al loro modo di fare il loro modo di parlare a quello che ai loro conflitti come ho detto quello che penso alle loro opinioni sono tutti estremamente caratterizzati in un modo veramente impressionante e questo poi si manifesta soprattutto nei dialoghi i dialoghi sono geniali sono una massa immensa sono una massa pazzesca veramente sono infiniti a un certo punto uno dice ma non finiscono mai di parlare ma sono sempre interessanti sempre coinvolgenti sempre frizzanti pieni di humor è uno humor veramente sfizioso uno humor anche ben adattato devo dire da quello manzai giapponese perché spesso c'è sempre il contrasto solito di quello pazzerello e quello più serio no è un continuo di un ottimo humor veramente un ottimo humor e io sono abbastanza selettivo sullo humor anzi direi parecchio e oltre un ottimo humor un continuo di trovate brillanti proprio nel nel modo di parlare nel nel modo di esporsi di di figure retoriche di anche conflitto i dialoghi sono pieni pieni di zeppi di conflitto tra i personaggi proprio continuamente quindi anche da questo punto di vista si nota subito che i dialoghi sono ottimi sono ottimi da un punto di vista tecnico sono ottimamente realizzati sono dialoghi da cui si può imparare come scrittori addirittura e dialoghi che difficilmente si dimenticano alcuni di questi quindi sia per le battute che ci sono sia anche proprio per la sostanza e nel modo in cui poi entrano nei casi stessi e questi dialoghi ovviamente per sono sono diciamo per di più quelli che vedono il nostro eroe e le figure principali dei vari casi ci sono anche una serie di figure secondarie come per esempio tanti dei testimoni più che lì più che gli indiziati principali tanti dei testimoni che sono solo di circostanza che servono per gli scopi di gameplay che però sono sempre ottimamente caratterizzati eccetera mai shutakumi l'ideatore mai sviluppatori creando dei personaggi secondari diciamo generici mai sono sempre ottimamente caratterizzati sempre però ovviamente sono interessati da dialoghi sempre frizzanti sempre coinvolgenti sempre però meno significativi rispetto a proprio i comprimari del caso in questione quindi sempre fenix wright sempre il prosecutor sempre l'accusa quindi sempre il giudice fa morire dalle risate e sempre ovviamente gli indiziati principali l'assistito poi quelli che si scoprono potete essere magari complici oppure potenziali colpevoli e così via il vero colpevole eccetera eccetera vi consiglio caldamente di giocare alla trilogia io me ne sono innamorato è diventata una delle mie serie preferite giocherò a tutti i giochi e quei tre giochi sono diventati forse miei tra i miei tre giochi preferiti di sempre veramente spettacolari divertentissimi super coinvolgenti da giocare magari un po alla volta perché tanta roba i casi sono tanti e sono lunghi soprattutto gli ultimi e i giochi sono tre quindi va vanno giocati un po alla volta per quanto mi riguarda il primo è stupendo e forse è migliore insieme al terzo non saprei dire quale dei due è meglio se il primo e il terzo il terzo sarebbe superiore al primo se al primo non fosse stato aggiunto quel caso extra che è ottimo con quelle meccaniche in più altrimenti il tre sarebbe superiore il secondo secondo me è quello inferiore tra tutti e tre però rimane comunque un'ottima opera però rimane secondo me inferiore rispetto agli altri due comunque in generale vanno chiaramente giocati di fila per quanto riguarda gli spin off o il prequel the great day saturni chronicles e gli spin off di my sage world investigation si possono giocare quando si vuole dopo aver giocato alla trilogia che è sempre il modo migliore per iniziare dopodiché gli altri vanno giocati sempre in ordine quindi il quarto il quinto il sesto e non so se siamo arrivati al settimo forse no non mi ricordo ancora appunto non ci ho giocato mi appresto a farlo e niente sono per questo motivo per questo valore aggiunto l'ho portato alti consiglio una storia praticamente degli ottimi delle ottime avventure grafiche nel senso sì dei dei fumetti grafici gialli fatti dai personaggi dai da anche i casi stessi ma dai personaggi in particolare dai loro dialoghi dalla loro identità così forte da da la loro caratterizzazione eccezionale eccellente cosa di cui già avevo parlato in relazione a ghostrick a maggior ragione così in in saturni tutti e due ghostrick è solo un gioco saturni è un'intera serie i primi tre saturni se non sbaglio tutti e tre ideati da sviluppati da shutakumi avranno ricordo comunque è una sua creatura come anche ghostrick direi che abbiamo parlato abbastanza di in realtà si potrebbe parlare per sempre di esa tornei tra l'altro adesso che c'è tutto il processo di johnny depp amber heard che si sta praticamente diventato una cosa pubblica perché è online fanno gli streaming eccetera eccetera che io non seguo perché me ne frega un cazzo però ho visto mi sono usciti su youtube dei video di gente che aveva ricreato il processo tra appunto johnny depp e amber heard insomma come si chiama l'aveva ricreato con le animazioni di esa tornei proprio come se fosse un processo di un gioco di esa tornei molto molto divertente anche perché appunto si viene sempre stato quello humor assurdo di esa torne comunque chiudiamola qua e ci vediamo al prossimo di consiglio una storia al prossimo video quindi vi saluto intronauti e ci vediamo alla prossima ciao